Quando spazio e pittura si incrociano nascono nuove visioni del territorio pittorico. Sono quelle di Ubaldo Rodari, direttore artistico del Brunitoio di Ghiffa, il pittore incisore originario di Bergamo ma verbanese d'adozione, espone a Palazzo Parasi a Cannobio fino al 6 maggio. Spazio negato, spazio immaginato, il titolo della mostra, frutto di 13 anni di lavoro. In questi 13 anni sono state prodotte circa 150-160 opere, qui c'è una sintesi di 24 opere di pittura, 15 opere di produzione grafica e incisoria. Una mostra che mi pare esaurisca bene questo periodo di lavoro, ritengo che sia in questo modo molto esaustiva, e sicuramente potrà fornire degli elementi a chi ha seguito sempre il mio lavoro per capire quali sono stati i progressi, quali sono state le vicissitudini di questo percorso durato 13 anni. Rodari inscrive la sua investigazione pittorica nella tradizione dell'astrazione e tuttavia formula un vero e proprio discorso intorno alla pratica della pittura e dell'incisione. La mostra è molto bella e allo stesso tempo è molto difficile. Proprio per questa sua difficoltà merita una riflessione visiva da parte del pubblico. Le opere di Rodari vanno viste da vicino, vanno viste dal vero, perché la riproduzione non rende questa minuziosità della materia, del colore e del lavoro sulla superficie che fa. Grazie. Grazie.